Sì ho capito mamma vado la cazzo per comprarlo, ma tu vai, preghiamo Intanto bisogna darle ragione Ma anche per dire questa leva qui puoi farla anche più dolce? Sì, un pochetto sì, più comoda, più bassa, alla tua altezza Perché poi questi due diciamo dovrebbero stare in linea In modo che tu stai in assi con le spalle e lavori il meglio possibile Perché se stai storto dopo un po' ti stai Infatti il destro è così eccezionale Il sinistro lo vede un po' Eh sì, non sei perfetto Appunto come prova tecnica Come andiamo Giacomo? Ah bene bene Questa può andare a posto del joystick Che dici? Io direi che questa è ottima come soluzione Secondo me con questa soluzione adesso a parte tutto Secondo me ancora un po' di anni vai avanti Sì, tanti Cioè Ciao 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 Ciao